67. Gino Strada Gino Strada, 1948-2021, medico, attivista, filantropo e scrittore, fondatore dell'ONG Emergency, ha detto Se la salute diventa un business, se un paziente è un cliente, è la fine della medicina. Commento Il medico che non considera il paziente un cliente è un evoluto. Il medico che considera il paziente un cliente non è ancora uscito dall'infanzia professionale. Per il primo medico la medicina è una missione, per il secondo può essere cinismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.